Renna Io non chiedo che sono triste tre giorni ci sono qualcosa che non fate sono depressa perchè non ho lavorato tanto in città ma invece è il fanno male 40 volte non mi interessa ma non mi interessa non mi interessa non mi interessa Ma no, ovunque è stato un'articolta. È stato un'articolta che sembra un'articolta. In vari seghi, perché è stato scritto in questo ragazzo di bambini. La pecula e la pecula vedono. E la pecula andiamo a mettere una maniera, e poi sono consumati. E' una confin jobbar. Grazie a tutti. 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 a tutti.